Sì, la sintesi è che siamo molto grati per avere questa possibilità di avere relazioni con l'Università di Benevento e abbiamo la cooperazione già all'istoria di collaborazione che collaboriamo con il professore Livio Zebrini anche con l'Università Ferrara di cui lui fa vice-rettore per quanto riguarda la cooperazione con l'Università di Benevento oggi con il rettore dell'Università abbiamo parlato delle possibilità differenti, non so, allora vediamo come andrà nel futuro.